Ciao a tutti, ben trovati su Balcony TV in Roma, io sono Mika, questo è il terrazzo dello Yellow Bar e oggi abbiamo degli ospiti speciali, loro vengono dalla Germania, si chiamano Den Mantau, willkommen! Come ti fai? Ti fai molto bene, grazie! Ti fai molto fresco! Sempre fresco e fangoso! Ok, che canzone ti giocare per noi? Siamo giocare Ghost! Ok, prendiamo la canzone e poi prendiamo un po' di chat! Sì, mi piace! Sì, mi piace! Time goes by your eyes, yeah! So take the test of me and you know that I fail! I take the ball and we are gonna be okay! Within a minute of the life, yeah! Time goes by your eyes, yeah! I'll be a ghost when I disappear and I'll be a ghost when I disappear and you'll only see dust when I disappear, baby! I'll be a ghost my death! There's a girl The heart is breaking down The clock of fear To where you Must be strong There's a girl By her side Love in a cocoon Where to send the I.U. For me love in spring But who am I In the crowd of these things And if you think I sing about you girls I probably do Get your breath on fire Pop it up your soul But baby I'll be a ghost I'll be a ghost When I disappear I'll be a ghost When I disappear And you'll only see Just when I disappear Baby I'll be a ghost My dear Baby Baby I will need to be a ghost Grazie a tutti 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 Grazie a tutti